Sono venuto? Ok. Foffo! Sono andato a Napoli, sono anche nei quartieri, sono anche i castellini dei quartieri, uno dei quartieri più belli che ci stanno in questa città. È bella la friccicarilla assai, tiene gente popolare, è scostumata, è friccicarilla. E se sta buona, se mangia buona, ci sta una vista stupenda, basta andare a farci un live se ve lo Vesuvio, tiene un sacco di gente che ha passato sotto, è troppo bello, qualche foto di un bernetto è proprio meglio, però si sa quasi se è un po' solo e se sta una bellezza a Napoli. Vieni tu a fare un girio, eh?